Benvenuta la notifica Eccola, eccola Entriamo in live Per vedere cosa sta andando Ciao dal vivo Oh, che sta succedendo? Ah, no, sì, sì, dai, dimmi Non questa perché questa non la andiamo a fare dopo 8, aspetta Aspetta, aspetta 8, 2 8, 2, 6 4 3 Sì, va bene, sì, ho capito 4, 9, 8 Sì 8 4 4 9 3 Aspetta, dimmi di nuovo il codice Ci vediamo se ho fatto giusto Non mi diri trattini Sì 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 Ok, giusto 4, 9 Era 8, 2, 6, 4 4, 9 8, 8 4, 9 3 No, non mi dà Aspetta Dimmi di nuovo Così almeno capisco 8, 2 6, 4 No Non mi diri trattini Perché tanto ci sono di già Sì Va bene Ho capito Eh, non è giusto Perché manca ancora Una Una lettera alla fine Manca ancora un numero Alla fine Ah, ma ci sono 2, 3 No No, no Magari un 6 No Magari un 2 No Aspetta Uno Non è che ne mancano così tante Nove E nulla È tutta sbagliata È tutta sbagliata No, no È nulla È rotta È rotta È rotta È rotta Ragazzo È rotta È rotta È rotta Ma proprio È rotta È rotta Ecco Non posso supportarvi Dei contenuti Da pc Peccato che Vengono molto scrausi Perché c'è un pc Scrauso Comunque ragazzi Ditemi Voi Dite che siamo In live E man E smag 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 mamma di mangiare c'è batmate no 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 ci stanno mettendo solo 8 anni no 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 i i oh io ritorno su rocket league rega cioè se cosi ritorno su rocket league ritorno su rocket basta io me ne vado io me ne vado non so che dire non so che dire non so che dire ragazzi mamma mia sto rocket league mi sta facendo un po' acire un po' acire non urla che stai parlando come stai su vabbè mmmm dimmi mamma mia pure con google eh è una volta dimmi tu c'è non serve non serve va bene cancello tutto non voglio che mi dica che io lo coppia perchè se non voglio cazzo male mancissimo che non amore amo carina amo carina amo carina amo carina amo carina aspetta 8 2 4 meglio che non finisca 6 4 6 4 spero aspetta aspetta 6 4 vai non mi diri né tra che né nulla perchè sono già Cioè, non si devono manco mettere 7, 4 9, 8 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8 9, 8, 6, un asino cotto 9, 8, 9, 8, 6, un asino cotto 8, 4 Adesso me l'ha data, adesso me l'ha data Ma va che è Però dopo andiamo a fare anche questa Delle bedwalk Bedwalk Che mappa è? Zetran ti tolgo dagli amici Ah, ok, non è una d'altra Non è una d'altra Ah, la conosco, la conosco Oh, va bene Ah, pompa viola, dove vai pompa viola? Eccolo, eccolo Blu Anche il rampino Rampino Sceglini Va bene, mi aiuto pure io Eh, Zac Va bene Zac, comunque anche io dovevo entrare qui Perché c'è tipo una cosa Che mi avevano detto i miei amici Che lì tipo al muro ci sono tipo dei superpoteri Eh, mi piace ma a me non mi trovi Che cacchio vuoi? No, no, quel cacchio Allora io ti ammazzo all'inizio Cioè, è il triplo dei danni No, no Lasciami Non mi sparare Non mi sparare Non mi sparare Non vale Ho usato solo il boicone adesso, però Tanto se ti ammazzo Si toglie Si toglie Se ti ammazzo Però mi è rimasta questa No No Non mi sparare No Non mi sparare ah tu non ci devi più adesso vieni qua Jack dove sei bello mio? dove sei bello mio? bad words di merda ehi Jack perchè allora tutti li prendi? non ti sembra che sia un po' tanto esagerato? usarle Jack si tranne l'inbot eh si tranne l'inbot che potete far solo hatchet nooo basta io me ne faccio tutto con gli amici fatti ammazzare oh mi ammazzi io tutto con gli amici eh ma me ne faccio un cacchio oh si sono tolti si sono tolti nooo nooo li voglio prendere dietro con gli amici non sto scherzando non gioco più con te non gioco più con te ti voglio solo che sei lì a prenderli Jack è meglio le mie amicizie oppure usarle hack ahhh si ma quello è normale quello è una nuova cosa magari nooo nooo dai che ci fuori tu sei siena ahhh ahhh ti trovo dai amici te l'avevo detto io te l'avevo detto visualizza profilo te l'avevo detto eeehh mi rimuovi dagli amici un tocco mi rimane uno 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 me ne manca uno vuoi che ti tolgo pure di l'asia vieni loro davanti a me io non sto giocando sono sul tasto di io sono sul tasto di toglierti dagli amici ah no 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 ah ah adesso ti tolgo dai amici fatti ammazzare fatti ammazzare da play no ah questo è per farti prendere un colpo ti giuro e mi ammazzi e ti tolgo dai amici sono un po' lento adesso a digitare la prima volta che gioco a forno è dopo 8 mesi ah ti prego oh mi ammazzare ti tolgo dai amici si non valgono più superpoteri col cazzo non valgono non valgono più eh perché anche tu l'hai prese Eh, solo quando ti ho ammazzato Quelle buone, quelle buone Eeeh, mi piace Mi gusta, mi gusta Mi gusta 8-7 Eeeh, amico mio Eeeh, col cacchio, col cacchio, faccio solo Eeeh Eeeh Già, chi era quello di prima Che trollava sempre, che si superpotere Va bene, va bene, va bene, togli Noi sono qui, accanto a te Tu potresti prendere il pompo e mi potresti uccidere AHHHH C'ho tant'ottacento, c'ho tant'ottacento, c'ho tant'ottacento Eeeh No, ho 198, ho 198, ho 198, ho un colpo dai Svali però Io quando mi rompevo Sto laggando Oh ma io sto laggando Oh se le prendi Se le prendi vado dire Ah bene Tanto che vince se le tiene all'infinito Pertanto vince se le tiene all'infinito Non vuole sparata Un ARM Eeeh Udiyivo Porgatico ma va a cagare esci fuori si guarda tra gli armi come un cane no io non andavo io dentro io dentro si perchè c'ho qui dietro no zack io sento puzza di un po' di di nascondimento un po' di ombra si mi sono escosto non li vado manco a prendere i superpoteri eh ci fuori buona io no vaffanculo vaffanculo no non parlate no no niente se c'hai pochi iscritti no no di giro stavolta non li vado a prendere no di giro stavolta non li vado a prendere se ti ammaggio se ti ammaggio se ti ammaggio ti devi vergognare oddio po' po' mozzi oddio ma c'è ma tu con due ti ammatti no non vengono più quelle bombe di nerd dove sei tu che c'è no 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 non vale io dico non vale sparare dietro quanto c'è tu cosa fai molto complimentoso mi butto dalla finestra se non la smetti gran pinocchio si questi dico dico e me e bu se ciao siamo no che cacchio eeeh bello mi fa disgustare eeeh eeeh cuorosiento cuorosiento zack iiiih si guardi niente dai zacki eh Così ci godo Impara a usare le hack Potere della Cacca di carta Bene Ma Io in sti giorni la gombotto Perché sono soprattutto il live Io stacco la live Se mi provo ad ammazzarla mentre la stacco Io stacco le gambe Io stacco la live